Grazie a tutti, ciao, buonanotte, grazie, ciao, siamo fuori di testa, grazie Moneski. Quando ho fatto coming out, cioè, è un momento difficile perché devi dichiarare ciò che sei a delle persone che ti vogliono bene, che ti conoscono, che ti hanno cresciuto, ma che non ti conoscono fino in fondo. Io a volte penso dei veri, i miei sensi che si allargano con quelli di mia moglie, che riusciamo a vedere quattro cose invece che due, noi stiamo insieme. Se sto fermo, io divento pericoloso perché la noia credo che sia il peggior nemico che ho. Tutto questo e tanto tanto altro fra poco. A ciao maschi. Da Troni dal 6 al 26 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione, il meno caro lo paghi la metà e in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero senza costi aggiuntivi. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Non sai che Lucifer sta per tornare. Speravo di morir prima, non ti dice nulla. E non sai chi è il nuovo Capitano America. Ti stai perdendo qualcosa, vero? Con Skycube basta dire Skycube, cosa mi consigli? E trovi uno dopo l'altro i più visti di Disney+, Netflix, Prime Video e la Top 10 di Sky. Così non ti perdi le novità di cui tutti parlano. Ah, ecco, The Undoing. Qui ci sono anch'io. Skycube, tutto quello che ami in un unico posto. Facile. Per la polvere ho come un da vista laser. Ma ho pulito l'altro giorno e si è già riprodotto, ma manco i criceti. Ma che fatica l'aspirapolvere. E con i panni mi servono otto braccia come i polpi. Ho la soluzione. Vado di suiferone. Il piumino imprigiona la polvere senza spostare niente. Presa. La scopa acciuffa la polvere anche negli angoli. Proprio come una calamita. Basta faticare, inizia a suiferare. Nella vita c'è chi si muove e chi rimane bloccato nei propri pregiudizi. Discriminare è un limite. Rifiuta l'homo lesbo bi-transfobia. Vai su unar.it e scopri i tuoi diritti. Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana. Il profumo che protegge. È di più. Molto di più. Anche quando offriamo un semplice lavoro. Non è mai solo un lavoro. Perché in quel gesto c'è una mano che si tende verso un'altra mano. E se ognuno degli 8000 progetti che realizziamo ogni anno non è mai solo quello che si vede in apparenza. Allo stesso modo, la tua firma per l'otto per mille alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma. È di più. Molto di più. Per la tua tenda da sole, scegli un tessuto ecosostenibile. Scegli Tempotest Starlight Blu. Tempotest. Da 100 anni. Nelle case degli italiani. No, 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 signorino, no, più giù. Giù? Giù ancora? Ecco, è lì, perfetto. Ma così non lo vede nessuno. Appunto. Lelio, lascia lì che poi appena posso il garage me lo compro. Ma vada subito da Compass. Un prestito? Ma quanto ci vorrà? Il garage l'avranno già venduto. Ma da Compass basta un giorno. Più prestito di così. Vado? Ancora qua, eh. Vieni anche tu in filiale. Fissa un appuntamento al numero verde o sul sito. Da Compass per un prestito. Basta un giorno. Signornino, ma che bisogno c'è? Mi piace così. Benvenuti a Ciao Maschio, dove gli uomini si spogliano in tv.